Complimenti, sfigato, sei riuscito a fottermi per la seconda volta il titolo. Da, da cento euro, carattina. Ma forse non sai una cosa, che questo sabato, 17 dicembre, sarebo io contro te, in singolo, e io ti ho già battuto molte volte in singolo, se non ricordi male. E questa volta siamo pure a Merckham, a casa mia, e io lì non ho mai perso. Ricordatelo bene, ma in maggio.